Un saluto amici da Guido Bagatta, benvenuti da queste parti. Oggi anch'io mi occupo di Napoli perché quello che è successo ieri sera al Maradona in pratica è la conclusione di un qualcosa che chi si sarebbe aspettato potesse accadere nello scorso giugno e stiamo parlando quindi di sei mesi, sette mesi fa. Il Napoli ha distrutto tutto quello che aveva costruito, mai si era vista una cosa simile in Italia all'estero, a meno che la società improvvisamente non avesse avuto dei problemi economici, cosa che il Napoli non ci risulta abbia avuto e abbia in questo momento. De Laurentiis che aveva costruito un sogno, aveva costruito un giocattolo meraviglioso, lo ha distrutto come un bambino scontento del regalo che gli è arrivato sotto l'albero. Ha fatto di tutto per cancellare un'impresa storica come il terzo scudetto del Napoli e adesso siamo arrivati al punto di non ritorno. Sapete cosa è successo, ha cambiato allenatore prendendo quello sbagliato, quello che costava meno, quello che nessuno voleva. Lui si è in testa ardito, ne ha portato a casa Garcia, ha cambiato direttore sportivo, rinunciando al migliore in questo momento con Marotto, ovvero Giuntoli. Ha fatto un po' tutto quello che ha voluto. Peraltro poi la squadra è rimasta più o meno la stessa, al di là della partenza di Kim, ma ha minato anche la fiducia dei giocatori con una serie di rinnovi non rinnovi che ancora adesso si trascinano per quanto riguarda soprattutto giocatori fondamentali come Ozymane. Ma questo è un capitolo a parte che magari tratteremo nelle prossime puntate. Ieri, tra l'altro, il Napoli ha fatto turnover, questa parola che fa un po' paura a tutti. Se avesse fatto qualcosa del genere, Garcia, al posto di Mazzari, oggi sarebbe stato crocifisso nei quartieri spagnoli. Mazzari è criticato, criticatissimo, lo è stato dai pochi che erano allo stadio, lo è dalla stampa e ovviamente da tutti i tifosi napoletani, però, insomma, rimane lì, ha chiesto, scusa, ci mancherebbe altro che non rimanesse, perché è stato appena appunto assunto. Il discorso del turnover è un percorso pericoloso per tutti, anche se, se proprio vogliamo andare a vedere, i giocatori di riserva, quelli del turnover del Napoli, ieri hanno giocato meglio dei titolari. I vari raspadori, para e via dicendo, hanno fatto bene, i titolari molto peggio, il che forse ci manda anche un messaggio, che i giocatori abituati a giocare da protagonisti sin dal primo momento, tipo Ozyman, se arrivano di rincorsa, magari di testa, non hanno quel tipo di approccio. Almeno questo abbiamo potuto vedere in campo. Con il Frosinone, che, ve lo faccio notare, forse qualcuno lo ha fatto o magari è sfuggito e più, ha fatto anche lui turnover, però in questo caso il turnover del Frosinone, che ovviamente a parte la Coppa Italia non gioca le Coppe e sta giocando un ottimo campionato, con l'obiettivo comunque di non per ritorciere, il turnover del Frosinone ha portato sette giocatori in campo che di solito non giocano dal primo minuto. Quindi le riserve del Frosinone hanno giocato meglio delle riserve del Napoli e anche meglio dei titolari, appunto, della squadra azzurra. Cosa succede adesso? Il campionato è sfuggito come obiettivo, ovviamente. I numeri non possono che farci ragionare su questo fatto. La Coppa Italia ovviamente non c'è più. In Champions e il Barcellona, se si gioca così, sarà una vera e propria chimera. Bisogna lottare per il quarto posto, che può essere un obiettivo sicuramente, ma onestamente dopo lo scudetto dell'anno scorso, o di quest'anno, dello scorso campionato, in quanti avrebbero pensato che gli obiettivi del Napoli si potessero abbassare così tanto? Io credo nessuno. E invece adesso il problema è davvero in mano di tutti. Grazie. Noi ci vediamo da queste parti domani, sempre da Guido Bagatta. Arrivederci.